Mister, riuscirete a sfatare questo tabù delle Toscane questa settimana? Speriamo, ci teniamo tanto, tutto quello l'anno scorso ci ha fatto penare sia in casa che da loro, quindi ci teniamo a fare una buona partita, la stiamo preparando bene, stiamo ritornando ad avere un po' di serenità anche sotto l'aspetto infortuni, quindi questo mi fa ben sperare. Lulli ha qualche problemino, l'ultimo di coloro che sono acciaccati, però questo è un teramo che si presenterà a Pontedera con l'organico quasi al completo. Lulli purtroppo ha questo fastidio che ci deve un po' convivere, ma sono sicuro che se c'è bisogno lui sarà a disposizione come domenica scorsa, stringerà i denti e darà l'apporto che può dare alla squadra. Mentre sta sulla via del recupero totale anche la Padula, che è una cosa che per noi è importante, quindi diciamo che siamo abbastanza messi bene questa settimana. A proposito della Padula, non teme che qualche voce di mercato possa distrarlo? Cosa farà? Ma sai, i giocatori bravi che hanno qualità, è chiaro che vengono richiesti ed è una cosa normalissima. Lui ha scelto Teramo quest'estate, quindi penso che non è cambiato niente, quindi farà di tutto per dare il massimo qui a Teramo. Fino a quando? Fino a fine campionato, perché è chiaro che noi ci puntiamo tanto su di lui, lui lo sa e lui ci tiene a far bene qui a Teramo, quindi è normale che ci siano voci di mercato sui giocatori bravi. A Pontedera contro il tutto cuoio, davanti chi giocherà? Ma guarda, noi in questo momento qui abbiamo anche Bucchi, che ha fatto molto bene, ha fatto gol, quindi ci ha dato un grosso apporto. Anche per la gestione di la Padula, che non possiamo sicuramente in questo momento qui chiedergli 90 minuti, perché lo stiamo recuperando. È un programma che abbiamo fatto, penso che la Padula sarà a disposizione, ma anche Bucchi sarà a disposizione. E come si fa a togliere poi colui che ha segnato il gol della vittoria domenica scorsa? Sì, sì, ma per noi Andrea è un giocatore importantissimo dentro lo spogliatoio, c'è da sottolineare anche questo, si è comportato sempre veramente con grande professionalità, con grande attaccamento alla maglia, quindi siamo fiduciosi in lui. Torna Maddio, altri dubbi? No, Maddio ha scontato la squalifica, ecco, vediamo la condizione di Lulli, ma penso che anche Stefano ci abbia voglia di confermarsi un giocatore importante, quindi mi aspetto da lui una grande partita.